Ciao, sono Luca e in questo video vedremo perché non sei seguito in palestra. È primariamente un discorso commerciale, per cui nelle palestre tradizionali, purtroppo vedo un po' ovunque, anche all'estero, quando ho alcuni miei clienti del servizio di personal trainer online, la persona media non è seguita per un discorso commerciale. In realtà in molti casi prevale anche un discorso di passione, cioè in realtà non prevale un ambiente dove c'è una vera passione, generalizzando per le palestre commerciali, poi magari in alcuni casi se la palestra è più piccola, magari creata da un personal trainer appassionato, cambia il discorso, c'è un'energia diversa. Però tipicamente prevale un ambiente dove tu sei soltanto un numero, dove vieni inserito in un contesto tipo catena di montaggio e in questo caso ovviamente non vieni seguito per un discorso commerciale, nel senso che non è per la palestra economicamente conveniente seguirti in maniera adeguata, perché ovviamente l'obiettivo primario è buttare dentro più persone possibili per pagare le spese, quindi rendere il tutto economicamente sostenibile, dopodiché purtroppo in troppi casi ti viene rifiata la solita scheda non personalizzata, con i soliti esercizi che tanto non vanno bene, non sono efficaci, con le solite schede fatte su carta, con l'omino disegnato come negli anni 90 e dopodiché molto spesso poi ti piazzano sul tapirullan a fare ore e ore di cardio, perché è un ottimo modo per come dire, metterti un po', come dire, della serie C, stai buono lì, in senso buono non rompere le scatole così io, titolare o quello che è, posso andare a focalizzarmi altrove o se sono il classico istruttore di sala ovviamente andare a provarci con la tipa nell'angolo. Quindi purtroppo è un discorso commerciale, non è per loro economicamente conveniente, quindi a quel punto lì, come ho spiegato in parecchie volte, ha molto più senso renarsi a casa, ti crei della tua home gym con poca attrazzatura all'inizio, poi puoi anche sempre ampliarlo nel corso del tempo se hai spazio, dopo due, tre, massimo quattro mesi ti sei già ripagato l'attrezzatura e dopodiché non devi assolutamente sottostare a orari che magari non vanno bene per te, trovare casino, macchine impegnate, pesi non messi a posto dopo che magari una persona li ha utilizzati, in generale trovare comunque, non sei costretto a trovarti in un contesto, io queste cose le sento molto, magari sono io che sono sensibile, però in un contesto dove non c'è passione prima di tutto, oltre che professionalità. Perché se io sono un cliente mi aspetto un servizio dove ovviamente mi vengono forniti una serie di informazioni per allenarmi in sicurezza, prima di tutto che non è scontato, dopo magari vedere le persone fare machine dietro la nuca piuttosto che lo squat a multi power, oppure fare cardio senza neanche valutare la frequenza cardiaca, e quindi in realtà sicurezza come prima cosa, come diceva anche quello, e dopodiché soprattutto professionalità ed efficacia. Tutto questo viene a mancare, quindi non ha assolutamente alcun senso, io veramente da cliente troppo spesso io stesso in passato mi sono sentito veramente, come posso dire, non valorizzato per usare un eufemismo, quindi non conviene assolutamente, quindi devi essere tu ovviamente a partire da un servizio, quando io seguo i miei clienti del servizio di personal training online, poi magari sono io che sono fin troppo preciso, metto a disposizione non soltanto il mio supporto, la mia professionalità a distanza, ma soprattutto l'applicazione iniziale con tutto il videocorso, per avere un po' i concetti di base, per sapere cosa stai facendo e perché, e soprattutto anche l'autoconspevolezza per dare un qualcosa sempre in più, in modo tale che la persona comunque abbia la percezione chiara di perché fa una cosa, del perché la fa e quant'altro. Altrimenti veramente vai in palestra, aspetta dunque uno, due, uno, due, cioè come se stessi montando un mobile, ma non è la stessa cosa. Quindi mi raccomando sta a te con il tuo potere economico di dirigere il mercato, un po' a tutti noi e se non sei seguito, non c'è passione, allenati a casa, metti su un po' di musica, non hai nessuno di mezzo alle scatole e dopo due o tre mesi ti ripaghi il tutto e veramente con i nostri soldi comunque indirizziamo il mercato verso un contesto più professionale dove ci sia passione, altrimenti non ha alcun senso. Quindi questo è un po' il video di oggi, come sempre ti rimando al mio paradigma autoconspevolezza per avere una visione molto più sottile e divertente rispetto al solito e come sempre se vuoi fare un salto di qualità, come detto, posso aiutarti a distanza come il mio servizio di personal trainer online. Ciao! Ti invito a iscriverti al mio canale e come sempre se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online.